La cosa più importante in educazione secondo me sono sicuramente le persone, sicuramente la ricchezza di un approccio educativo ci aiuta ma sono soprattutto le virtù e il benessere di una persona che fanno la differenza in educazione. Il conoscersi a parere mio viene prima del conoscere, vedete io in stanza accanto al poster di Francesco Totti e della amigdala, ho quello di Maria Montessori e di Paolo Freire, per me sono dei geni che hanno illuminato il mio cammino da maestro, però ben presto mi sono accorto che le idee di Maria o di Paolo a nulla mi servivano se io non stavo bene e molto spesso uno non sta bene perché nell'interpretazione della realtà che c'è davanti applica degli schemi, degli schemi che si è costruito con la sua storia personale nel sistema educativo e culturale in cui è venuto e se gli schemi sono poco salutari a poco servono le idee illuminanti dei qual si voglia pedagogista. In questo senso dico che il conoscersi è più importante della conoscenza. Certo è fondamentale avere nello zaino di un educatore sempre con sé Maria, Paolo, Loris, Rosa e Calorina, Rudolf, ci aiuta tantissimo, ma poi la realtà è complessa, la realtà che abbiamo davanti ci richiede uno sforzo in più, richiede delle qualità importanti da parte dell'educatore che non è solo la conoscenza, perché questa realtà è disegnata dall'insieme dei sistemi che si abbracciano, l'unicità del bambino, i miei schemi personali, il sistema familiare che sta intorno al bambino, il sistema educativo, scolastico che sta intorno al bambino, quello culturale e tutti questi sistemi che si abbracciano disegnano una meravigliosa complessità, una meravigliosa complessità che ci invita a cercare non l'intervento giusto, ma l'intervento adeguato a quella meravigliosa complessità. Quando la pedagogia si limita ad applicare rigidamente un metodo, uno schema, muore. Vedete, io sono il cofondatore del primo asilo nel bosco in Italia, mica spicci. Questa parte qui della mia storia personale mi ha disegnato una maschera fatta di convenienza che io ho un po' indossato e che mi offuscava un po' la vista rispetto ai reali bisogni dei bambini. Pensavo che fosse giusto per tutti loro stare in natura, perché sicuramente è un bisogno fondamentale di tutti gli esseri umani, ma tutti i bambini avevano bisogno di stare in natura per tanto tempo? E poi quale tipo di natura? Quella selvatica? Quella leggermente antropizzata? Il giardino di scuola? E tutte queste domande mi hanno provocato una grossa crisi da educatore. Le crisi, si sa, sono sempre il primo seme di una nuova nascita preziosa e questa crisi ha fatto nascere in me l'idea della pedagogia viva. È colpa dei bambini e delle bambine, prendetevela con loro. Sono loro che a un certo punto mi hanno detto chiaramente, spaccando la maschera della convenienza, maestro sì, la natura è meravigliosa, ma oggi noi con le nostre unicità abbiamo bisogno di altro. E nella ricerca dei mille altro che ci stanno, delle mille possibilità che l'educazione ci offre, è nato questo seme della pedagogia viva. E quindi ho cominciato a cercare, sono nate nuove domande, per esempio, ma le idee di Maria Montessori sarebbero cambiate? Conoscendo il funzionamento del cervello dei bambini di oggi. E ho capito quanto è importante essere aperti, essere vivi, per esempio, ai tantissimi contributi che nuove discipline ci stanno dando, penso alla neuroscienza, alla psicologia positiva, all'educazione emozionale. E camminando ho scoperto tante cose che vorrei condividere con voi, ma tante altre le vorrei scoprire insieme a voi. Sento proprio il bisogno di fermarci un attimo e chiacchierare un po' di pedagogia viva, di raccontarvi quello che ho scoperto, ma soprattutto di ascoltarvi, perché una delle caratteristiche fondanti della pedagogia viva è che l'intervento e l'approccio adeguato nasce da una coralità di prospettive. E quindi vi chiedo aiuto, vi chiedo di farci questa bella chiacchierata insieme. Secondo me andremo a gettare altri semi preziosi per tutti noi, per la pedagogia e per i bambini. Vi aspetto in un vedo l'ora.